Salve a tutti, oggi voglio introdurre qualcosa di relativo alla legislazione e in particolare al programma operativo nazionale. Avrete forse sentito parlare nella scuola dei progetti PON. Allora, cominciamo a scrivere qualcosa, sistemo il microfono, ok. Allora, i progetti PON e PON è l'acronimo del programma operativo nazionale. Quindi con oggi rivolgo l'attenzione alla parte della legislazione. Quindi vi è un rilievo attribuito al quadro delle politiche della ricerca e dell'innovazione in cui sorge la necessità di proiettare la politica su una scala nazionale e internazionale e di perseguire con rilevanza strategica, con connessioni intenzionali alle indicazioni programmatiche a livello nazionale. Quindi, alla base della definizione del programma nazionale di ricerca e competitività strategica per rinnovazione e la competitività, quindi il piano nazionale di ricerca e industria, si integra la manovra di sviluppo delle regioni che converge con quella prevista per la crescita competitiva dell'intero paese. Adesso faccio un po' di chiarezza. Allora, il programma nazionale operativo deve promuovere... Io adesso cerco di tradurre tutto quanto ho detto in una forma di linguaggio probabilmente più schematica e più semplice poi da interpretare per essere integrata all'interno della prova scritta. promuovere interventi di qualità scientifica e tecnologica o a carattere sperimentale che abbia effetti industriali indotti sui processi produttivi e sulle tecnologie con effetti su tecnologie e processi produttivi di cosa dei vari settori in particolare dei settori trenanti ossia i settori di produzione più importanti. Considerate che dietro ai progetti PON ci sono diverse migliaia di euro che possono essere date che vengono date annualmente alla scuola e se si presenta quindi un progetto valido si può accedere a queste risorse all'interno della scuola e queste risorse ovviamente vengono utilizzate per promuovere tali interventi adesso vi dirò tutti gli interventi che possono essere progettati. Poi un altro obiettivo è quello di favorire la messa in rete di esperienze di eccellenza e di progetti di ricerca quindi promuovere o promulgare progetti di eccellenza e progetti di ricerca. Poi ovviamente tutto ciò riguarda anche le imprese ma a noi interessa di meno perché riguarda anche i progetti di innovazione tra imprese e centri aventi rilevante caratura tecnologica e competitiva assicurano un sostegno finanziario come vi avevo già accennato proporzionale alla complessità del progetto. Quindi il PON è il programma operativo nazionale è uno strumento per attuare strategie nazionali per la ricerca anche chiamate PNR programma nazionale per la ricerca ovviamente oltre che per la ricerca anche per l'industria La Commissione europea inoltre ha emanato una direttiva specifica sugli indirizzi culturali e formativi che devono ispirare la formazione degli insegnanti andiamo quindi alla formazione alla formazione docenti è fondamentale una dimensione culturale ossia l'apprendimento essenzialmente quello che poi dovete dovrete anche dimostrare nei vari concorsi l'apprendimento e la padronanza dello specifico metodologico ed epistemologico delle conoscenze di scintinari apprendimento e gestione dello specifico metodologico ed epistemologico delle conoscenze disciplinari virgola dei processi innovativi che quindi comprendono ricerca e sviluppo nella nostra società ricerca e sviluppo poi c'è un quadro o una dimensione chiamatela come preferite di tipo psicopedagogico quindi quadro psicopedagogico e che cosa si intende conoscenza e quindi padronanza dei principi degli strumenti e dei quadri di riferimento valoriale che assicurano effettività alla formazione e allo sviluppo del curriculum scolastico e degli arrivi quindi essere in grado di sviluppare il curricolo scolastico degli allievi quindi bisogna avere capacità di governare tale curricolo e in relazione allo sviluppo e alla personalizzazione del potenziale formativo degli studenti poi c'è una dimensione o una caratterizzazione metodologico didattica ovviamente la parte della legislazione è sicuramente un pochettino più pesante però badate bene che nella progettazione di un'uda sicuramente se voi andate ad inserire parte di questi elementi costitutivi la formazione dei docenti quindi come obiettivo da perseguire e raggiungere in qualità ovviamente di docente che simula che progetta che risponde a quei siti per dimostrare le proprie competenze capacità le proprie metodologie le proprie padronanze la padronanza della propria disciplina della propria specifica classe di concorso la caratterizzazione metodologico didattica deve dimostrare la padronanza di ripertori ripertori scusate specializzati o specialistici di strategie didattiche quindi dobbiamo individuare la strategia una strategia didattica io adesso dico la strategia didattica funzionale che porti al successo in coerenza e il riferimento all'impianto formativo organizzativo e curriculare di riferimento in coerenza con l'ambiente di riferimento qui sintetizzo sicuramente vi è una diprensione pratica quindi la capacità di conversare di invenzione di autocritica la salto perché a mio avviso è la non la meno importante però è implicita in tutto quello che stiamo dicendo in quello che continuo a dirvi vi è un taglio una caratteristica una dimensione relazionale sociale cosa si intende la capacità da parte del docente di essere partner del mondo esterno alla scuola quindi capacità di comprendere e ascoltare gli altri ne riconosce la dignità e i bisogni soprattutto i talenti quindi sviluppa i potenziali dei docenti degli studenti sapere instaurare un clima di interdipendenza positiva e sicuramente un clima esigente nella promozione di apprendimenti esperti da parte degli allievi quindi essere un docente di riferimento sia nel mondo della scuola quanto nel mondo esterno mondo scolastico e non scolastico capacità di promuovere i potenziali o se volete i talenti degli studenti creando un clima e un ambiente di apprendimento favorevole ovviamente tutto quello che vi sto dicendo adesso si interrelaziona con tutti i video precedenti cioè ovviamente come viene richiesto allo studente di riunire poi tutte le varie conoscenze in un'unica conoscenza anche noi come docenti dobbiamo essere in grado di riunire tutte queste parti questi spezzoni di realtà di verità in un'unica conoscenza che poi noi possiamo saper articolare in una in un quesito specifico del concorso sia a carattere scritto che a carattere orale ultimo e non e non meno importante vi è anche una dimensione ovviamente organizzativa che è correlata alle competenze gestionali e si intende la capacità di assumere ruoli gestire il proprio ruolo con le relative responsabilità guardate che un insegnante è un insegnante a un lavoro di altissimo livello di responsabilità in quanto il fare docenza in maniera utile e con rendimento elevato può cambiare la vita delle persone quindi competenze bisogna dimostrare anche competenze gestionali gestire il proprio lavoro con responsabilità il proprio ruolo all'interno della scuola ovviamente nell'ambito del lavoro scolastico scusate mi sta accadendo tutto vi chiedo scusa per il rumore tanto abbiamo quasi finito anzi può essere pure qualcosa di divertente per voi capacità infine di contestualizzare il proprio lavoro in riferimento alla legislazione scolastica e l'evoluzione delle politiche scolastiche peraltro a volte poco lineari e formativi nazionali ed europee lo riscrivo capacità infine di contestualizzare il proprio lavoro con riferimento alla parte legislativa della scuola ovviamente virgola all'evoluzione scolastica e delle politiche ovviamente scolastiche formative nazionali ed europee io con questo vi ringrazio per l'ascolto per la disponibilità se avete dubbi come al solito lasciatemi un commento alla prossima ciao ciao